e bello a tutti ragazzi eccoci in questo nuovo video su gta 5 online regala per iniziare il video ricordo il mio gruppo telegram giù in descrizione per scambi veicoli glitch e per giocare con me ragazzi il link ho trovato in descrizione allora rega attenzione nuova gara lipao mega rampe 15 creata per il mitico lipao gamer regala l'ho creata con le soffici mani e con la stromberg avete visto la miniatura misterioso tunnel marino nel triangolo delle permuda ma il sunar ragazzi che sarà mai il triangolo delle permuda attenzione questo che col vestito da joggernaut è troppo figo oisci comunque 3 2 1 let's go andiamo col nostro faggio faggio truccato ci aveva messo la marmita nuova rega marmittone della marossi chi è chi è che ma c'è una ragazzi chi è qua davanti reds ma reds attenzione rega allora se impegniamo rega dovremmo andare un po più veloci va 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 impennando impennando parkurito tranquillo semplice nino ma c'è una nino becca questo nino in impennata in impennata nino che buste prende l'impennata rega oh mio oh che caschiamo abbiamo preso un busto assurdo avete visto rega e il faggio quando impenna il faggio quando impenna scherza poco belli miei chi c'è dietro ancora reds però dobbiamo andare così impennando impennando guardate macchina se si stanno impennando tutti macchina quante macchine ci sono in giro giù alla faccia dalla quarantena su gta non c'è ok ecco la nostra stromberg verde crew molto bello sto verde che io rega vai di stromberg da si inizia il parkour ancora delle piccole parti la gente si butterà di là spero di no 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 stanno venendo tutti qua tutti bene tutti bene allora adesso faccio il cambio veicolo andiamo con la moto con l'oppressor mk2 vai oppresso mamma mia che volo che ha fatto quello mazzuna ragazzi piano non va ammazzate belli miei vai oppressor ma dobbiamo salire 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 è già che ha problemi di salita l'oppressor rega mazzuna l'oppressor qua 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 sale diversamente bene vai turbo rallentiamo un po' se ne andiamo giù di sotto ok ma io faggio e di nuovo chi è arrivato gul killer maizuna gul killer lui è il classico è cascato ma si è buttato si è buttato da sotto perché è gullo perché un canastra gara abbiamo con calma vi faccio vedere il parkour il link dell'attività lo troverete nel gruppo telegram ve lo fisso oppure mi scrivete in privato e ve lo passo il link così lo potete giocare con i vostri amici allora diamo piano ho fatto tutto arancione viola a stile los angeles lakers rega non so se seguite il basket il los angeles lakers sono una squadra di nba io sin da bambino ero tifoso dei lakers tempi di cobi bryan riposa in pace cobi cobi purtroppo ha avuto un incidente stradale pochi mesi fa in stradale scusate un incidente mortale in aereo e quindi veramente abbiamo perso uno dei più grandi campioni sia di vita di gioco comunque cambiamo discorso continuiamo con il nostro parkour parte delle frecce da da easy rect queste frecce qua ah no troppo in la casco mazzuna ragazzi l'ho tenuta vai velocità qua eh ultra velocità vai spaccando piano allora qua è la parte più complicata adesso adesso arriva non so se due parti qua le più complicate speriamo di riuscire a farle subito eh queste due qua sembra facile ma in realtà vedete che tocca tocca andare veloci ok easy easy e qua qua ovviamente c'è il trucchetto belli miei vediamo se qualcuno ce l'ha fatta c'è qualcuno dietro chi è ghoul qua regà il trucchetto però tocca che mi vedono perché sennò resteranno qua si è incastrato la ghoul ma fate incastrare ok ma fate incastrarsi la vediamo se cade se cade andiamo regà andiamo avanti se cade lì ma secondo me cade ecco cosa la macumba allora faccio questa parte macumbona per ghoul killer la lozione allora vai così piano allora se voi andate veloci così andate qua e la è trollo questa questo legnetto è trollo dovete assolutamente fare tutto di prima cioè senza andare su legnetto la dovete tirare dritti ben niente bisogna tirare dritti così prendete un po di rincorsa ecco c'è qualcuno è andrione andrio vai veloce andrio così tira dritto e non sbagli vediamo se ce la fa andrione eccolo eccolo che arriva grande andrione vai andiamo giù ora qua regà c'è una parte a a madonna come prendo io le rampe le spawniamo potremmo anche andare diretti perché tanto c'è una parte sott'acqua però lo voglio fare bene sono andato troppo veloce ok vai così e attiviamo con la x si attiva la modalità sottomarino vedete che apre i cosi le alette piccoline qua state giù se volete che riprenda il turbo vuoi perché disturbi sottomarini sono un po strani un po baggati sott'acqua non funzionano tanto bene ok c'è preso ora dobbiamo stare attenti a ste due cosi che girano sotto ok prima andato siamo sempre bassi vai la velocità lo becchiamo lo becchiamo no alziamoci un po perché dobbiamo andare su ok vedete l'ha preso il turbo ok mamma mia spettacolare questo veicolo qua belli miei veramente non vedo niente ruote ok trasformazione sembra la macchina dei trasformers ora qua ci rigiriamo dove è andrione che lo volevo trollare eccolo 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 andrione maestro andrione torna in acqua torna in acqua andrione torna in acqua e mezzo in area ragazzi andiamo allora ora questa è una parte particolare comunque non vi si spegne questa macchina qua anche se non è attivata la modalità sottomarino questa non si spegne perché diceva quando è uscita che ha i vetri che non può entrare l'acqua quindi non è come le altre macchine che appena c'è un po di onda si spegne ma guarda che onde sono tsunami queste non so onde normali oh dios ok va 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 i tsunami veramente no 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 andare di la frena ok via 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 scappando salendo prima che arriva un'altra onda che ci porta tutta fuori ok faggio preso dove andrione andrione lo stai e ma guardate che onda rega oggi oh my god mi dicono che aveva un po mosso il mare ok andiamo a fare questa parte qua la 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 ci ci dirigiamo ragazzi verso il triangolo delle bermuda mazza una ragazzi direte sta sto triangolo delle bermuda in gta adesso vi faccio vi fa vedere lo zione dove il triangolo delle bermuda belli miei adesso c'è ancora un po di parkour e dopo c'è il triangolo delle bermuda vai faggio velocità estrema non cammina sto cosa vado più veloce a piedi ok anche qua rega c'è un po d'allergia adesso è il periodo il periodo dell'ozione dell'allergia questi tempi questo periodo qua primavera già c'è il virus in più pure allergia romanaccio questo periodo uguale easy rect proprio perché pure allergia effetti mi pizzica al naso in un modo assurdo passeremo anche questa rega ormai l'allergia quando ti viene pensate che da bambino non mi veniva l'allergia mi ha iniziato a venirmi da grande non sa sfortuna quindi allergia se non ce l'avete potrebbe arrivare da un momento all'altro e quindi spero che non vi arrivi però io c'ho l'allergia ai pollini tutta quella roba la che spunta fuori in questo momento allora aspettiamo mamma mia che onde oggi rega oggi veramente onde non vedo non vedo non vedo no 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 natea l'onda proprio adesso natea ma io veramente l'onda troll wow 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 che onda hashtag onda troll madonna proprio proprio l'ultima arrivata l'onda oggi veramente onde va 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 perché è l'onda ti trasporta praticamente no 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 abbiamo già beccato due onde che ci trollano ecco che arriva l'altra ecco andrione vai andrione occhio che stanno le onde troll adesso sono bassi adesso prima c'erano le onde quelle a cascata andrione prima c'erano le onde quelle giganti via 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 senza onda senza onda via 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 ok ce l'abbiamo fatta let's go qua c'è una piccola parte troll ok allora dovete aspettare che il coso si abbassa un po' e se lo beccato dobbiamo rifarci la parte delle onde vai 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 no 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 lo becchiamo lo becchiamo fuf fortuna spavoliamo di un pelo se partiamo due secondi dopo lo beccavamo ce l'ha fatta andrione è là è nell'ultimo coso allora facciamoci intanto la parte questa qua in retromarcia ok piano così piano dieci minuti gara anche questa raga abbiamo anche aspettato tranquilli easy easy voi fatemi sapere nei commenti cosa ovviamente ne pensate di questa gara eccolo che sta arrivando andrione sento il rombo del motore ha preso un po' male guarda un po' larghina vai così immagina mi sta venendo da starnutire mi sto tenendo dallo starnuto belli miei ok vai quasi terminata dove è andrione non si vede vai che c'è il traguardo ora eccolo qua il famoso triangolo delle permude eccolo qua dove sta mamma guarda che me garampa e lì c'è il triangolo delle bermude bisogna entrare la dentro dentro il il coso viola ecco l'andrione che arriva è arrivato andrione di qua non si passa andrione è inutile di qua non si passa ci mettiamo così a bloccare la strada bloccando c'è il posto di blocco belli miei va ah caro no no regà se casco mi devo rifà tutto aspetta andrione aspetta ma è su un andrione no 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 di qua di qua aspetta aspetta e se casco mi devo rifà tutto via 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 ah ma mi fa passare andrione vai ma è su un andrione vai 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 tu a prenderti la prima che qua siamo i nuovi proprietari della gara vai let's go let's go ma è su una ragazzi ecco là il triangolo delle bermude belli miei ora vediamo se c'entriamo il buco eravamo troppo veloci che abbiamo saltato il checkpoint è tutto mi sa madonna quanto è lenta questa macchina praticamente siamo andati di sotto vai andrione sennò qua rischiamo vai andiamo a concludere allora regà spero questa gara vi sia piaciuta lasciate tanti bei like fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa gara che poi ne creeremo anche altre non vi preoccupate lasciate tanti bei like lasciate tanti bei commenti e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video bella regà